Allora io ero a letto, ero a casa, ho sentito un botto incredibile, ma proprio un botto, sembrava una bomba. E quindi scendo giù, veramente vado alla finestra e sento delle gente che era qua nel parcheggio. E qualcuno che urlava al fuoco, al fuoco, al fuoco. Notte movimentata, quella di martedì per i residenti della zona del parcheggio dell'ex gasometro. Erano le due infatti, secondo quanto registrato da alcune telecamere di videosorveglianza privata, quando questa dacia Sandero ha preso fuoco causando un'esplosione che ha buttato giù dal letto gli abitanti. Noi siamo scese, è scesa anche il figlio della mia vicina, giù, perché veramente è stata una cosa pazzesca, ma botti incredibili. C'è una paura, io mi sono buttata giù dal letto perché ho detto che è successo. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad estinguere le fiamme, ma ormai per il mezzo non c'era più nulla da fare, essendo finito quasi completamente carbonizzato. Sull'episodio sta indagando il personale del commissariato di polizia. Da capire infatti se si sia trattato di un evento accidentale oppure se sia stato in qualche modo doloso. Secondo quanto registrato dalle telecamere, infatti, nella piazza sarebbero state presenti numerose persone prima che l'auto prendesse fuoco. Ma non è che si vede niente, si sente solo i botti, tantissimi, poi si sentono tantissime voci. Io non capisco perché poi siamo scesi e c'era il deserto qua. Ma che ora era più o meno? Le due di notte, le due e un minuto, quando ha fatto il botto.